Una legge ferma da oltre un anno al Senato che non riesce a sbarcare alla Camera. Si tratta del disegno di legge Carlo Falanga, approvato nel gennaio 2014 al Senato, ma snobbato totalmente dalla Camera dei Deputati. Una proposta di legge che allungherebbe sì i tempi di demolizione degli edifici abusivi, ma ne permetterebbe una migliore classificazione in base alla priorità di esecuzione. Se ne è discusso oggi nella sede di Forza Italia di Piazza Bovio, che ha visto presenti Pina Castiello, Antonio Pentangelo, Carlo Sarro e Paolo Russo, che con forza hanno sostenuto la necessità dell'approvazione del decreto. Un impegno preso in campagna elettorale, che doverosamente va mantenuto, pur essendo una questione delicata da affrontare, come dichiara Carlo Sarro. Un atto necessario per limitare le ingiunzioni di demolizione per circa 250.000 case abusive, per le quali sarebbe necessaria addirittura una discarica di 18.000 tonnellate, che in tutta Europa non esiste, come dichiara Paolo Russo, che ha così concluso a margine della conferenza. La melina della sinistra e del PD, che da una parte si dichiarano disponibili a votare questa norma, che non è nessun condono, non sarebbe nessun indulto, non rappresenterebbe null'altro se non una scala gradum, una scala di priorità negli abbattimenti. Insomma, non la sarabanda, non la giostra degli abbattimenti, soprattutto di poveri Cristi, ma una scala precisa per indicare e individuare quali devono essere le abitazioni abusive che per prime devono essere abbattute. Una norma di buonsenso, una norma di ragionevolezza per la quale Forza Italia si è impegnato e continua ad impegnarsi. L'abbiamo approvata al Senato a larga maggioranza, proveremo a fare analoga cosa alla Camera. Dopo due anni finalmente riusciamo ad ottenere la calendarizzazione.